E' di sette persone denunciate il bilancio dei controlli straordinari messi in campo dai carabinieri della compagnia di Siniscola, diretta dal capitano Andrea Leache, per le festività di Capodanno. I servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, ma anche a garantire il rispetto del codice della strada, specie in un periodo di grande traffico. Sono stati impiegati 20 militari. Il dispositivo ha consentito di evitare gravi problemi e assicurare festività tranquille ai cittadini. In particolare cura è stata dedicata ai controlli stradali con l'effettuazione di posti di blocco nel territorio sotto la giurisdizione della compagnia di Siniscola, che hanno portato anche a sanzionare quattro automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per i trasgressori è scattata anche la denuncia in stato di libertà per la violazione del codice della strada. Altri tre soggetti sono stati trovati in possesso di coltelli di genere proibito, sono stati denunciati a piede libero. Dovranno rispondere davanti all'autorità giudiziaria di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.